Un libro per abbattere i pregiudizi, provando a far capire che non importa il sesso di chi si ama quando il proprio lavoro lo si fa con passione. La storia, infatti, indaga il tema dell'omosessualità proprio in un ambiente in cui, per molti, è inconcepibile sia presente, ovvero quello del calcio. L'autore è Fabio Canino, attore, condottore radiofonico e televisivo, noto a molti per le sue performance da giudice a Ballando con le stelle e per il programma Miracolo Italiano su Rai Radio 2, e che a Cubbio ha tenuto una presentazione verace e toccante avvenuta nel nuovo spazio Caffè del Teatro all'interno del Parco del Teatro Romano, grazie anche alla collaborazione con l'amministrazione comunale, la nascente associazione, la città delle donne e la biblioteca spereliana. Le parole che mancano al cuore, questo è il titolo, è un romanzo che parla di una storia d'amore tra due calciatori di Serie A e uno dice perché avevi bisogno di fare una cosa del genere? perché io credo che sia l'ultimo avamposto il calcio, soprattutto in Italia, del macismo, l'ultimo tabù. E siccome chiaramente esistono anche lì delle storie d'amore, ma che non possono uscire in questo momento perché sennò verrebbero distrutte le vite private di questi ragazzi, ho pensato che raccontando una storia d'amore, che poi è l'unica cosa che ci unisce, l'amore anche il peggior razzista, il peggior omofobo, il peggior fascista, una volta si sarà innamorato. E allora, toccando una cosa che in qualche modo ci accomuna, forse ci avviciniamo perché attraverso l'amore dovremmo tentare in qualche modo di vivere e di convivere, perché è quello che dobbiamo avere. E credo anche che una storia d'amore sia una grande prova di coraggio. Infatti nel libro dico che per essere felici ci vuole coraggio e io invito tutti ad essere felici e quindi ad avere coraggio. Nel corso della presentazione l'autore ha indagato il ruolo dei calciatori che molto spesso conducono una vita solitaria, composta da sponsor che decidono tutto per loro. Cosa dire, cosa fare, dove vivere e spesso anche se sposarsi. Persone che hanno la massima pressione mediatica addosso e che per questo non sono quasi mai liberi di esporsi. Eppure l'italiano Matteo e il brasiliano Tiago, nomi di fantasia, conosciutisi tramite la chat di una Playstation, si sono resi conto di amarsi. Probabilmente i tifosi più violenti all'inizio reagirebbero male, così come alcuni politici estremisti, ha detto Canino. Ma quando i protagonisti avranno il coraggio di dichiarare i loro veri nomi, si aprirà una strada che non si chiuderà più. Questo è il primo libro in Europa ad approfondire una storia d'amore che parla di inclusione nello sport, in un momento storico in cui la parola gay viene ancora considerata un insulto e in cui la cronaca è piena di ragazzi omosessuali che vengono minacciati e malmenati. Per aver voluto tentare di sradicare un tabù che ci si chieda ancora come possa esistere, Canino è stato invitato a presentare il suo libro anche al Parlamento europeo. Tanti, infatti, i passi in avanti in termini di accettazione che vanno ancora fatti, soprattutto nelle piccole realtà in cui purtroppo per molti non è ancora facile essere se stessi. Dare un consiglio è difficile perché ognuno ha la sua storia, la sua vita, la sua famiglia. Io quello che dico a tutti è che consiglio di fare il coming out perché ti togli una pietra dal cuore e, come diceva Calvino, sul cuore ognuno ha una pietra che ti rende tutto pesante. Invece la leggerezza, che non è superficialità, la si raggiunge togliendo questa pietra e respirando a pieni polmoni. Ecco, il coming out è quello. Essere una persona solare, serena, che vive la propria vita a pieno, perché la vita è una sola e spesso dura anche meno di quello che ci aspettiamo. Per cui perché viverla nella tristezza e nell'infelicità? In questo ti deve aiutare la scuola, la famiglia e per quello ognuno ha la sua storia. Però io credo che sia importante anche un libro come il mio, Le parole che mancano al cuore, per far capire a chi magari ha dei problemi che la storia d'amore è una storia d'amore per tutti, non cambia se amiamo un uomo o una donna. Se sei una bella persona o una brava persona non cambia niente. Io appunto anche un calciatore, se è gay o no, non cambia niente. Se sa fare gol, lo sa fare in qualunque modo.